Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Dune, un gioco di, se non erro, 20 o 30 anni fa addirittura, comunque dovrebbe essere un gioco degli anni 90, se mi ricordo bene, riportato sul mercato e ovviamente in questa nuova edizione, che sarebbe la seconda, a cura della Galeforce 9. Gioco che mi è stato regalato dal mio grandissimo amico Ryuzenka, che io ringrazio di cuore, perché mi sta riempiendo di board game e tra l'altro Ryu, a parte grazie di cuore, è sempre ovviamente un piacere e un onore e riesce sempre a stupirmi perché, me l'ha detto anche Alive l'ultima volta, mi fa Andrea, io conosco bene i tuoi gusti, infatti so sempre dove picchiare e per ora mi ha regalato Robotech, mi ha regalato il gioco dei Ghostbusters e mi ha regalato Dune, quindi va sempre sul sicuro perché i miei gusti li conosce perfettamente, come puoi dimenticare One Deck Dungeon, sapendo appunto che mia moglie adoriamo i Dungeon Crawler, quindi mi ha regalato, rettifico, 4 board game e quindi Ryu, grazie, veramente di cuore. E ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Dune è un gioco da 2 a 6 giocatori, della durata media c'è scritto sulla scatola di 120 minuti, sì, più o meno la durata è quella lì conferma avendoci fatto una partita, ed è un gioco che ci ricatapulta nell'ambientazione di Frank Herbert, nella guerra delle casate dell'Ensrad, appunto per la conquista del pianeta Dune. E in questo gioco, oltre alle due casate principali che abbiamo visto nel romanzo, anche nei film di Lynch, che tra l'altro ci stanno facendo anche una nuova serie o qualcosa, un film, insomma non vedo l'ora, ci vedono nei panni della casata Atreides e della casata Arkonen. Ora lasciamo stare in campo videogiocchi che ci misero una terza casata che era della gilda spaziale, gli Ordos, ma che a livello di ambientazione non esistono. In questo gioco ovviamente, dovendo giocare anche in 6, ci hanno messo anche altre casate, ci hanno messo la casata Corrino, che è la casata dell'imperatore, l'imperatore qua di Shasha Dam IV e della figlia Irulan, e poi ci hanno messo anche altre gilde, tipo la gilda spaziale, quindi la Choam o la Koam, dovrebbe essere la Koam. Ci hanno messo anche le Ben Gesserit e l'ambientazione dice tutta, siamo ovviamente sul pianeta Arrakis, siamo sul pianeta Dune, dove l'imperatore ha dato concessione a tutto quanto, ma anche lo stesso imperatore interviene per favorire, insomma, la raccorta di Spezia, anche perché vi ricordate a livello di ambientazione di Dune, la Spezia è la cacca del vermone di Shaiulud, vermi che poi hanno usato in varie ambientazioni, in varie firme, negli anni, come addirittura anche Tremors. E quindi siamo chiamati su questo pianeta a dover raccogliere la Spezia, o chiamata anche dai nativi del post-Efremen, il melange, e la Spezia consente tutto, come dicono gli Arkonen, il barone Vladimir Arkonen, chi controlla la Spezia controlla l'universo, perché la Spezia serve ai navigatori della gilda spaziale, li permette di piegare lo spazio-tempo e di fare viaggi interstellari, interspaziali ovviamente, perché la cosa bella di questa ambientazione è che il salto nell'iperspazio, o meglio, non è tanto un salto nell'iperspazio, perché lo vediamo anche su Guerre Stellari, da un sistema all'altro, da un settore all'altro, da un pianeta all'altro, da una stella all'altra. Ma nell'ambientazione di Dune la cosa veramente figa è che ti puoi andare da un punto A a un punto B dell'universo con un salto, però le navi non si muovono, cioè le navi della gilda spaziale, questi cassoni grandi dove tutte le altre navi delle flotte entrano e vengono portate ad un altro punto dell'universo, non è il fatto che la nave non fa il salto nell'iperspazio, ma è il pilota che fa il salto nell'iperspazio, quindi il navigatore della gilda tramite inalazione della Spezia, il melange. Ed è la più grande figata, secondo me, a livello di ambientazione perché la tecnologia è futuristica, però le navi non vanno alla velocità della luce, quindi fare un viaggio anche semplicemente da Marte a Giove richiederebbe tanti, 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 tanti mesi, per farvi un esempio a cortissima distanza o da Marte alla Terra. Mentre invece in questa ambientazione dell'Enserad il pilota della gilda riesce lui tramite appunto il melange, mi viene anche un po' in mente la forza dei guerre stellari, a fare il salto nell'iperspazio e saltando si porta dietro la nave di cui è il pilota e tutto il carico che c'è a bordo. E nel gioco dovremo andare, scendere sul pianeta Arrakis, Dune, prendere la Spezia ed è molto interessante perché è un gioco di alleanze, di battagli, di eserciti ma anche di tradimenti, che forse è la cosa più importante. Prima di tutto vi faccio vedere ovviamente l'unboxing. La scatola è abbastanza grande, non è piena zeppa di roba ovviamente, ve l'ho detto, come contenuti sono andati un po' a risparmio, però c'è tutto veramente, la mappa è fatta bene ed è riprodotto molto bene il gioco. Regolamento di gioco, allora, scritto bene, chiaro, però lì per lì c'era rimasto male perché ho detto, ora a parte vabbè la componentista che te la fa vedere, però non ci sono esempi e disegni, quindi ti fanno presente le regole, però senza accompagnarle con un disegno accanto, con un esempio, sono troppe cose che devi immagazzinare in testa e non c'è un esempio di riferimento accanto. Stavo quasi per dire però che scatole ce le potevano mettere anche, quando mappare sotto la scatola che non avevo visto la quick start, che invece è proprio quello che cercavo. Esempi con i disegni accanto, quindi regole, disegno, regole, disegno, regole, disegno. E quindi, meno male, ho detto da una parte, ci viene incontro appunto per colmare tutte quante le lacune che ci aveva lasciato il manuale. Le plance delle varie fazioni con i personaggi, sono plance ovviamente che vanno piegate perché si gioca a carte coperte, e sono le fazioni, come vi ho detto, le Ben Gesserit, i Fremen, ovviamente c'è sempre il personaggio, qui c'è Lyot Kynes, che è il planetologo, ex planetologo imperiale, poi c'è la Gilda Spaziale, la famiglia imperiale Corrino con l'imperatore Padishasha Dam IV, poi ci sono gli Arconnen, il barone Vladimir Arconnen, e gli Atreides, che qui già lo chiamano Paul Muadib, ovviamente perché ha già superato la prova del Gom Jabbar, a seconda dell'ambientazione ed ha già conosciuto appunto i Fremen. Poi dentro abbiamo le schede delle fazioni, perché ogni fazione in gioco ha dei vantaggi, ovviamente, degli alleati, e poi altre regole particolari, quindi ciascuna fazione ha la sua scheda di cartoncino semplice, con tutto quanto il riassuntivo. Token vari, dei personaggi divisi nel colore delle fazioni, perché il personaggio principale è sempre rappresentato sul paravento, lo chiamo così, e tutti gli altri sono rappresentati invece qui, ce ne sono cinque per fazioni, più c'è la Battle Will, che serve per fare i combattimenti, secondo me è una regola abbastanza geniale, più tutti gli altri token, appunto, vedete lo Storm, la tempesta che vi dicevo prima, più tutti quanti gli altri token che ci sono in gioco, comprese le fazioni, che questi qui sono i soldati, vedete, soldati Atreides, soldati della casata Corrino, e tutti gli altri. Tabelloni di gioco, che ora poi vi faccio vedere aperto, è bellissimo, rappresentato veramente bene, e le carte di tutti gli oggetti che ci sono dentro, tipo i triceri, vabbè, ovviamente la spice, la spezia, carte traditore, carte redirection, e più ci sono altri mazzi, che tra l'altro questi mazzi qui, piccolini, che vedete qua giù, a parte quello della tempesta, sono opzionali, eh, questi mazzi, soprattutto questo verde, quindi potete scegliere di metterlo o di non metterlo, sono regole in più, e una bustina con, una bustina con dei piruletti neri che servono per fermare e fissare le Battle Will. Vi faccio vedere un po' come funziona. Questa è una delle parti, per farvi vedere, quindi nel caso della casata Atreides, su un lato del campo, questo qui, ovviamente, come li chiamo io, paraventi o schermetto, ora ve lo faccio vedere messo così, per mostrarvi cosa c'è indietro, comunque questo serve per coprire, perché questo è un gioco a carte coperte, a forze coperte. Comunque, abbiamo la scheda della fazione, che vi dice il setup di partenza, e vi dice anche tutti quanti i vantaggi che ci hanno. Abbiamo le truppe di partenza, del colore della fazione, che sono verde, i cinque personaggi speciali della fazione non è consente, cioè, ovviamente il capo fazione, tipo il Baron Arconen o Paul Atreides, non ci sono in gioco, sono soltanto rappresentati qui, però ci sono tutti quanti i loro comandanti in campo, in più gli Atreides iniziano con 10 di spezia. Questi qui sono i segnalini nei vari tagli, 10, 5, che ora poi vi faccio adesso la mappa. Quindi, il setup iniziale è sempre scritto qui. Abbiamo la suddivisione dei vari turni, qua su, che ora poi vi vado ad elencare, ovviamente il contatore dei turni, che parte da 1 e arriva fino a 10. Qui ho già scelto le carte tra editori perché vi faccio vedere come funzionano. Più abbiamo il simbolo, quindi se uno di questi cerchi, a seconda di come siete messi sul tavolo, dovete mettere il simbolo della vostra fazione. La cosa più iconica, vi si fa vedere la battaglia fra Atreides e Arconen. Poi, questa qua giù è la banca della spezia. Io ci ho messo soltanto il taglio 1 e 2, ma ci dovreste mettere anche quelli da 5 e quelli da 10. Comunque, tutta qua giù è la banca della spezia. E questa qui, Treilaxu Tanks, è dove finiscono una specie di infermeria dove vanno a finire le truppe distrutte prima che possano entrare in campo. Vedete la mappa di gioco? Ora sposto un attimo le carte così ve la descrivo meglio. La mappa di gioco è divisa in città o fortificazioni, che sono Arrakhin, tra l'altro da dove partano gli Atreides, e ci sono altre roccaforti che vedete qua giù. Nel gioco, chi ne conquista almeno 3 ha vinto la partita. Conquistandone 3, ci dovete essere solo voi, non i nemici. Comunque, se gli Atreides conquistano questa, questa e questa, all'inizio del turno successivo hanno vinto la partita. Oppure, se giocate alleati con un altro giocatore, ne dovete conquistare 4, perché ovviamente, essendo alleati, siete un pochino più avvantaggiati. Poi, le zone devono essere ovviamente collegate per potersi spostare. Una truppa non si può muovere da qua a qua, ma dovrebbe fare il giro per arrivare fino a qua giù in fondo, o se no, da qui, passare in questo punto polare e andare giù. Comunque, con una sola mossa, dovete sempre prima andare al centro per scendere sotto. O almeno che voi non abbiate il controllo di una fortezza, da cui potete prendere un ornitottero, che vi sposta le truppe presenti nella fortezza di 3 caselle. Quindi potete fare, invece che un movimento con le vostre truppe, 3 movimenti. Le zone sono divise fra zone di sabbia, dove può attaccarvi il vermone Shaiulud, e zone di roccia, dove invece siete al riparo, tra molte virgolette, perlomeno dal vermone. Poi ci sono i mazzi Triceri, da cui ciascun giocatore ne pesca una all'inizio e ne può ottenere un massimo di 4 in mano. Quindi se ne ha più di 4 in mano, assolutamente non può andare a prenderne altre, fino a che non le usa. All'inizio della partita se ne prende una giocatore. C'è il mazzo Spezia, per vedere ovviamente la Spezia dove appare sul campo, e vi faccio vedere. Il mazzo Traditori. All'inizio ciascuno di voi ne pesca 4 dal mazzo avversario, e ne può scegliere soltanto una, quella che vuole. Quindi il possibile Traditore degli Atreides che useranno gli Arconnen è Dottor Yui, mentre invece il possibile Traditore degli Arconnen che useranno i Nemishi Atreides sarà Fade Rauta, il nipote del Barone Vladimir. Queste sono cose che vi faccio vedere dopo. Comunque, carta della Spezia, prendete quando è il momento di girarla, nella sua fase, la girate, e se esce Shai Olud, è ovviamente uscito il Vermone, dovete vedere in che zona esce, e se avete truppo in quella zona, vengono distrutte. Come vedete, viene evidenziata una zona della mappa, e viene evidenziato un valore. Quindi voi andate a identificare quella zona sulla mappa, che è questa qua, e ci mettete il valore di Spezia che è apparso. Quindi ci mettete un valore di Spezia, prendendolo dalla banca, di 6. Quindi qua giù ci va un valore di 6. E ora i giocatori sanno che la Spezia in gioco da andare a recuperare è qua giù. C'è un modo all'inizio per spostare ovviamente la Tempesta, la Storm che vi dicevo, in cui va deciso un valore. Comunque il manuale ne parla chiaro. Diciamo che comunque la Tempesta si muove sempre in anti-orario, fa un giro anti-orario della mappa, quindi in quest'altra direzione qua, e il numero viene puntato da tutte le funzioni in campo. Magari questo punta 3, quello punta 2, in altra fazione punta 1, si fa la somma di tutti i valori che ci sono, e la Storm, come vedete c'è la freccetta, si muoverà in questa direzione. Quando la Tempesta arriva in un punto, non ci potete spostare le truppe. Quando la Tempesta arriva in un punto di sabbia, quindi nel deserto pieno, tutto quello che c'era viene distrutto, e ogni volta che delle truppe vengono distrutte, vengono sempre messi nel Tleilaxu Tank, che potranno essere riprese successivamente. Quando la Tempesta arriva invece in una zona, colpisce questa zona qui intera, ma magari voi avete delle truppe, non nel deserto, ma fra le rocce, le truppe non vengono uccise, ma sono bloccate, perché si riparano ovviamente in mezzo alle rocce, alle montagne, dalla Tempesta in corso. Come vi ho detto, la prima cosa da fare, è appunto girare una carta dal mazzo Spezia, e vedere dove appare per mettere la Spezia, quindi praticamente il primo turno, con questo simbolino qui, prima è la Tempesta, e questo qui accanto appunto, è vedere dove esce la Spezia. Ce la mettete tranquillamente e finisce lì. Ogni fazione deve sempre avere almeno, almeno un punto di Spezia, se una fazione non ha più punti Spezia da poter spendere, perché serve per fare tutto, praticamente per vincere la battaglia, o per fare anche alleanze, può chiedere la carità della gilda spaziale, e a quel punto gli viene affidato un punto, quindi un punto qualcuno, anche se uno c'è a zero, un punto ti viene regalato, perché se no non potresti più fare niente. C'è la fase molto carina, che forse è la cosa che più apprezzo di questo gioco, che è la fase di Treachery, che è questo qua giù. Praticamente un giocatore pesca quattro carte, ovviamente io non l'ho mescolato, quindi le prendo un po' così, dove vanno vanno, prende quattro carte, e le dispone come se fosse un market. Le carte in questa terza fase, non vengono rivelate, stanno a faccia all'ingiù, però il giocatore non sa cosa c'è sotto, quindi partendo dal giocatore, il primo giocatore, in questo caso facciamo conto che è la Treides, potrebbe dire, ok, la prima carta va comprata, vanno prese in ordine, da sinistra a destra, questo non so cosa c'è sotto, punto, e le puntate si fanno tutte con la spezia, ovviamente col melange, quindi magari la Treides ci punta uno, l'Arconnen vuole rivedere, ovviamente deve puntarci un altro uno, quell'altro magari ci deve ripuntare un altro uno, insomma l'ultimo che ci punta, ovviamente le risorse spese vanno sempre nella banca, quindi tutta la spezia spesa se ne va sempre nella banca, e quello che ci ha puntato più soldi sopra, si prende la carta, carta che ovviamente non deve rivelare, ovviamente lui se la guarda, la carta per forza di cose, e se la mette dalla sua parte di tavolo, se ha già 4 carte Triceri in mano, questa fase non la può fare, la deve saltare, la fase Revival, quindi le truppe che sono qua giù in fondo, le potete riportare in vita, e ogni fazione ne riporta in vita gratuitamente, il numero che ci è segnato, quindi gli Atreides se ne riportano in vita gratuitamente 2, quindi ne posso riprendere 2 da qui, che posso andare a rimettere nella mia fortezza, o in altri punti che controllo della mappa, praticamente vengono mandate altri soldati, per ogni truppa in più, che volete portare sul campo di battaglia, se la portate in una città, se la città è vostra, quindi nel caso Arrakin, che è la capitale appunto di Arrakis, di Dune, se voglio portare una truppa qui, in un posto che io controllo, mi costa 1, 1 di spezia, risuscitarla, se invece lo voglio risuscitare, in mezzo al deserto, dall'altra parte, mi costerà 2, spezia sempre che tolgo dalla mia parte del tavolo, e la butto nella banca, arriva la fase Shipment e Movement, che è quella che io prendo, tutte le truppe che invece ho in riserva, ovviamente tutte quelle che posso portare, prendo e le sposto direttamente sul campo, di battaglia, sempre nella stessa fase, posso muovere le truppe, ma la regola vuole che ne posso muovere, quante ne voglio, tutte quelle che voglio, ma a gruppo, quindi se qui c'è un gruppo di 3, qui c'è un gruppo di 2, e qui c'è un gruppo ad esempio di, qua giù sulle rocce mettiamolo qui, c'è un gruppo di 4, io posso muoverne quante ne voglio, ma a gruppo, quindi non posso muoverne queste, queste e queste, devo scegliere un gruppo tra queste, magari dico, va bene queste qui, le muovo qui, oppure queste qui, una di queste, perché non voglio perdere la città, mi serve mandarle in un altro punto, con l'ornitottero, visto che c'ho la città, e mi muovo di 3 caselle, magari faccio 1, 2, oppure 1, 2 e 3, e vado direttamente qua giù, o magari mi vado a prendere anche la capitale, perché vedete, le zone a loro volta sono divise da linee, quindi ad esempio, se volesse andare qua giù in fondo, provare un attacco lì, dovrei fare 1, per muovermi qui, poi da qui mi potrei muovere qui, e fare un 2, e poi andare qui, col terzo movimento, arrivano le battaglie, che è l'altro lato geniale, del gioco che mi piace da morire, mettiamo conto che, l'unica zona del gioco, dove non potete combattere, è il polar sink, mettiamo caso che, la trade, voglio mettere forze in campo pari, qui c'ha 3 forze, in campo, e, l'arconnen, ce n'ha 3, qua giù, ricordatevi che, quando entrate in una zona, controllata da un altro giocatore, deve per forza avvenire una battaglia, fino a che, non muoiono tutti, una fazione deve vincere, ora, vengono in campo, le battle will, che ciascuna fazione, ne ha una, ed è la parte più interessante del gioco, perché, intanto ciascuna fazione, deve scegliere, un eroe da mettere in campo, e ciascun eroe, vedete qui, ha un valore, vedete, 2, 1, 5, 4, e 5, visto che, prima abbiamo visto la carta, come vi ho detto, traditore, ci metto invece, il dottor Yui, che ha un valore di 1, quindi lo metto qui, pubblico eh, lo devono vedere, cioè il mio avversario deve sapere, che eroe guida la mia armata, e poi, devo andare a scegliere, un valore che va da 1, al massimo di truppe che ho in campo, quindi nel mio caso, da 1 a 3, che sono le truppe che io perderò, a fine battaglia, ma sono i punti battaglia, che posso usare, quindi se scelgo, un valore di 3, io so già, che a fine battaglia, mi moriranno tutti, l'ho deciso io, però do un più 3 al combattimento, quindi 3, più 1, del personaggio 4, il barone Arconnel, potrebbe fare lo stesso, e potrebbe dire, ok, anch'io dall'altra mia parte, spendo 3, ok, oppure spendo 2, e ci metto però, sopra un personaggio, magari che ha un valore più alto, ci metto direttamente, Rabban, l'altro nipote dell'imperatore, quindi, ho un personaggio, che mi dà un valore di 4, e ci metto 2, perché non voglio, che l'ultima truppa mi muoia, ora, quando inizia la battaglia, è stato deciso che, già andate a vedere, quindi il giocatore Atreides, farà un valore di 4 in tutto, ok, il giocatore dell'Arconnel, invece farà un valore di 6, quindi, il personaggio dell'Arconnel, avrebbe già vinto la battaglia, in questo caso qui, perché non si tira dadi, ha un valore più alto, ha vinto la battaglia, perde 2 truppe, come lui stesso aveva deciso, e l'Atreides, le perde tutte e 3, quindi, anche le ruote, sono segrete, le ruote le dovete mettere segrete, pronto? sì, pronto? ok, e le mettete giù in campo, e a quel punto, vedete che cosa avete messo, però, c'è un'altra regola carina, mettiamo caso che, l'Arconnel, non ha personaggi da mettere, perché anche i personaggi, vengono sconfitti, e vanno qua giù in fondo, quindi magari, mettiamo caso, sta perdendo la guerra, e dice, ok, io ne metto 3, come l'Atreides, l'Atreides 3, però più il personaggio 4, però, si può giocare, una carta traditore, dalla propria mano, e magari, l'Arconnel, usa la carta traditore, segretamente, sceglie, la carta traditore, Dottor Yui, non lo dice ovviamente, l'Atreides, si va avanti con la battaglia, ok, Atreides fa, giochiamo carte, no, ho vinto, il giocatore, Arconnel, mette in campo, la carta del Dottor Yui, e fa, sì, però il Dottor Yui, come vedi, è il mio traditore, quindi la battaglia, automaticamente, persa per l'Atreides, il personaggio, Atreides, viene buttato, nel Tleilaxu tank, quindi viene sconfitto, insieme a tutte le truppe, e l'Arconnel, vince la guerra, si può mettere, nella stessa battaglia, una arma, quindi un oggetto da battaglia, e una difesa, vedete, hanno sempre il fulmine, per quelle d'attacco, e uno scudo, ciascun giocatore, quando un giocatore, attacca con l'arma, come vedete, se mette un'arma, di là, il giocatore che difende, deve avere una difesa consona, perché ci sono difese, che parano un certo tipo di attacco, che ne sono i veleni, e difese, che parano invece, armi d'attacco, questa difesa qui, para armi d'attacco, se il giocatore, riesce a parare all'attacco, con la sua carta difesa, salva il personaggio, se un giocatore, non mette una, magari anche queste, siccome sono carte messe e coperte, se un giocatore, fa un attacco, con un'arma a distanza, l'arconnen, e di qual giocatore a treides, si difende con una carta, che difende dal veleno, o da un'arma da corpo a corpo, ovviamente l'eroe, non può parare il corpo, l'eroe viene sconfitto, e quindi si perde il bonus, che c'è scritto sopra, per collezionare, tutta quanta la spezia, che potrebbe essere divisa sul campo, vi faccio vedere, mettiamo caso, ce n'è un po' in giro così, ovviamente può essere soltanto dove c'è la sabbia, mai sulla roccia, ovviamente il vermone caga nel deserto, per prendere la spezia, basta spostarci una truppa, una o più truppe, che poi vabbè, conta come un piccolo esercito, un'unità, e si prende tutto quello che c'è, si raccoglie tutta quanta, anche lì ci sono delle regole, perché chi ne può raccogliere due, chi ne può raccogliere tre, comunque si raccoglie la spezia, e va nella nostra banca, la spezia in questo gioco, a parte per un possibile spareggio, ma nemmeno tanto, si usa non per vincere la partita, perché si vince la partita, chi conquista le città, quindi uno da solo ne deve conquistare tre, un'alleanza di due ne deve conquistare quattro, e poi arriva la fase dell'alleanza, che secondo me è la cosa più carina, che si fanno promesse in gioco, che di regole, proprio il regolamento vanno rispettate, e si potrebbe fare un'alleanza, che ne soffre tra Edes e Arconnen, contro magari l'imperatore, e per fare una, bisogna fare promesse reali, che poi vanno mantenute, per quanto poi si possano fare anche tradimenti, quindi io potrei promettere, oh, se ti mi vieni a dare una mano, a distruggere l'imperatore, io ti regalo 5 di spezia, e in più, ti mando due truppe, a supporto della tua garrison, della tua città, ad Arrakin, l'Arconnen dice, va bene, ci alleiamo, quindi da quel momento, non bisogna più attaccarci, anzi, non possiamo più attaccarci, né una cosa o un'altra, ma il giocatore, che ha fatto le promesse, deve rispettare, quindi deve realmente, proprio ma di regole, deve mandare le truppe che ha promesso, e deve pagare i soldi che ha promesso, nella prossima fase, quando andranno avanti i turni, e si andrà nella fase, appunto un'altra volta, di alleanze, l'alleanza può essere rotta, quindi può dire, non siamo più alleati, io ti tradisco, e da quel punto, un po' e ci si può ridare battaglia, quindi turno dopo turno, si arriva fino alla fine, e quando si arriva al decimo turno, deve essere stata conquistata, appunto il pianeta Dune, la mappa del pianeta di Dune, e la cosa importante, ricordatevi sempre, lo storm, occhio, perché se vi si sposta, dove ci avete le truppe, nel deserto, ve le distrugge completamente, e in più, non poteva mancare, quando esce la carta, il vermone Shaiulud, che sulle rocce, non vi può prendere, però, se dovesse capitare, in questo punto qui, e voi in questo punto qui, ci avete magari, truppe che si danno battaglia, in quel momento, e il vermone con la sua carta, esce qui, ve le distrugge tutte quante, quindi ve le porta via, e ve le uccide, nel caso fosse presente, durante una battaglia, anche un eroe, anche l'eroe, verrà portato via, e verrà ucciso, ragazzi, ci sarebbe anche la fase mentat finale, però bene o male, le regole del gioco, sono tutte qui, come avete visto, è un gioco che ha poche regole, e molto facile, anche perché, è un gioco, ve l'ho detto, tipo degli anni 90, una cosa del genere, i regolamenti, o erano scritti su due pagine, o erano scritti, come HeroQuest, o erano scritti sulla scatola, direttamente, quindi doveva avere, un regolamento facile, però, l'hanno ampliato, un pochino il discorso, col fatto degli equipaggiamenti, delle carte, e il dover appunto, anche andare a fare alleanze, e tradire, quindi c'è anche un po' di componente, realistica, GDR, che a me piacerà morire, e questa è veramente Dune, ragazzi, questa è l'ambientazione Dune, mi piace, i disegni sono bellissimi, la mappa è spettacolare, mi piace il fatto, che la mappa sia divisa, fra zone di sabbia, dove si muove Shaiolud, dei vermoni, e zone di roccia, dove invece potete stare, tra 300 mila virgolette al sicuro, mi è piaciuta la regola, di questa tempesta, che gira tutto quanto il pianeta, come abbiamo visto anche in Magnastorm, della, della Cranio Creations, dove passa questa tempesta, non ci puoi costruire, e distruggi tutto, mi è piaciuto tutto quanto, ti cicala veramente tanto, dell'ambientazione, per un fanatico come me di Dune, che Dune ricordo essere il padre, di tutta la fantascienza moderna, soprattutto di guerre stellari, Rita Twin è ispirato, l'ha detto sempre anche George Lucas, al pianeta Dune, a Rakis, e quindi vi ci ritrovate molto, è un gioco veloce, è un gioco dinamico, ed è un gioco che punta tanto, sul fare anche le giuste alleanze, nel momento giusto, perché la cosa bella di questo gioco, vince una casata del Lensrad, per la conquista di Dune, però si possono anche vincere due casate, perché se Arconnen è difficile, però Arconnen e Atreides, si alleano per vincere la battaglia, oppure Atreides e Fremen, si alleano per vincere la battaglia, e vincono la guerra, vincono insieme, quindi da vincere una soltanto, possono vincere invece anche due insieme alleati, ed è molto interessante, ora, gli abbasso il voto al gioco, di un punto, rispetto a quello che vorrei dargli, perché la componentistica va bene per quello che è, l'ho detta anche nell'ultima, nella quarta domenica ludica, però, ora, di tutti i personaggi che c'è dentro, le miniature no, però almeno dei personaggi principali, Paul Atreides, mi sarebbe piaciuto vedere anche una miniatura piccina, con un mezzo busto, il barone Arconnen, bello cicciotto, grasso, tutto pustoloso, magari l'imperatore Shaddam, col mantello dorato, perlomeno, un po' di miniature, e poi, gli eserciti no, vanno bene così, però almeno l'ornitottero, che è la cosa più, eh, bella, e come vi posso dire, che ci rimanda appunto, che subito quando pensi a Dune, ti viene in mente gli ornitotteri, che volano, e portano macchinari, per andare a raccogliere la spezia, e poi le riportano i vedi ai vermoni, mi sarebbe piaciuto, ecco, anche quello, vederlo rappresentato, magari anche un elemento scenico, piccolino di plastica, o di resina, però comunque va bene così, quindi voto al gioco di Dune, ricordo della Gale Force 9, gli do 8 su 10, meritatissimo, ragazzi vi ricordo, che se volete ordinare questo gioco, tantissimi altri giochi da tavolo, l'ultime novità, ma anche GDR, primo link in descrizione, e poi anche quello che vedete in sovraimpressione, andate su Board Game Discount, negozio, con cui ho avviato una collaborazione, che ci hanno i migliori prezzi sul mercato, se in altro sito, o da un'altra parte, trovate il prezzo minore dell'oro, glielo dovete comunicare, e ci sta anche che vi facciano uno sconto, e in più, c'è la possibilità della spedizione immediata, vi arriva in 24 ore, e tutti i loro giochi, tutti i loro prodotti, si possono pagare a rate, anche quelli che costano meno, se un gioco costa 60 euro, lo potete pagare in tre rate, uno al mese ovviamente, da 20 euro, quindi è una figata, andate a vedere su Board Game Discount, che corvo l'occasione ovviamente, per salutare e ringraziare come sponsor, 8 su 10, meritatissimo, ragazzi, primo link in descrizione, Board Game Discount, e poi tutti quanti i nostri social a seguire, fatemi sapere se l'avete giocato, e fatemi sapere un po' cosa ne pensate, ciao alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti.